Mi aiutate a cercare. Che cosa? E' questo. Questo pezzo. Questo è il mio. Che non ho finito. Che bello è oggi. Ti posso fare una foto? Fai la stazione. Che cosa stai facendo? Una stazione? Posso fare? La stazione è dei pattù. Questa. 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 Prego. Questa. Questo è il mio. Questo. Tu conosci una palla supertele? Tu conosci una palla supertele? Metto questo pezzo qui Che bello pochino di figo che ho io Grazie Aspetta i'waginiti Che Ne Spezi Sì Cosa? Cosa? Non si può fare l'amore? Cosa? 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 No! L'altro, dove? Cosa? L'altro, non si può fare l'amore? No! se non l'ho visto sto facendo una fermata perché le fermate sono importanti non aspetta perché sta facendo le luci adesso facciamo una città non so come ma l'ho facciata non devo fare ma itBele ora basta fino a là quando hicri può fare non c'è più voilà si video a prima in una prima D'accordo? D'accordo. E'uatescizzi! E' Così? Tasta. hai un vlog dove? come dove? su youtube si guardate solo se ci sei tu oggi ci sei perché dormo a casa di stifo ok che vorrei sono va bene ciao ciao food vlogger eh? non ho food vlogger adesso mmm 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 ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. And I never lied to me that that all's wrong. And I never lied to me that that all's wrong. And I never lied to me that all's wrong. And I never lied to me that all's wrong. And I never lied to me that all's wrong. And I never lied to me that all's wrong. And I never lied to me that all's wrong. And I never lied to me that all's wrong. And I never lied to me that all's wrong. And I never lied to me that all's wrong. And I never lied to me that all's wrong. And I never lied to me that all's wrong. ti faccio vedere dei video e delle foto il nostro shopping è tanto tanto fatta non fa, ho comprato strade varie e io lascio adesso dobbiamo andare da a Comasina prima da Stefania per camerci ma caldo poi a Comasina a prendere tre tizzi poi andiamo a McDonald's e dopo lì cosa facciamo? mangiamo poi poi giochiamo poi andiamo a giocare non so dove però andiamo oggi è lunedì oggi è lunedì non so se vede di nuovo il piet Grazie a tutti. 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 Ciao. Avete mangiato. Ciao. 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 Words. übers, lascami in pace. universi. universi. la parola, il tema. disse che voglio fare. Aiuto, sto parlando di resta, perché è niente. Dedrix, cosa mi chiede? Hai paura di cosa fa? C'è, Dedrix, ha paura di salire. Questo qui è menta. Eh? È menta, sentite? Sì, mangialo. Hai qualcosa nella scarta. Fa male? Cioè, quanti anni hai? Eh? Un indice e mezzo. Ok, se mi arriva. È troppo piccola. Ok, se mi arriva. Ok, se mi arriva. Ok, se mi arriva dalla scarta. Ok, se mi arriva. Grazie a tutti. 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 Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hai pelle anche lui. è diventato un uomo. prima coniugazione. hai sputato. manca, manca... ma ti odio, ma... 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 tu... ma... 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 via... 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 dobbiamo... 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 dobbiamo correre perché... ma... 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 dobbiamo... dobbiamo... quindi... quindi... ho fatto... un... 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 a tutti Stefano andiamo a dormire è solo l'uno dominiamo dopo ciao 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 cagnolino ciao 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 ciao